Un'esperienza di crescita umana e cristiana, intensiva e strutturata, in un clima di allegria, intorno a momenti di gruppo, di preghiera, giochi, tornei e laboratori. E questa è l'estate ragazzi, che al termine di ogni anno scolastico anima i cortili di tutti gli oratori salesiani. Anche a Salerno, da sabato 15 giugno, presso il centro giovanile Don Bosco, nel quartiere Carmine, ha preso il via quella che per molti bambini e ragazzi rappresenta un prezioso momento di aggregazione e sano divertimento. Per circa un mese ogni giorno, tra mattina e pomeriggio, oltre a momenti di riflessione e preghiera, i quasi 600 ragazzi iscritti a questa edizione, molti dei quali non frequentanti regolarmente l'oratorio ma provenienti da varie zone della città, saranno impegnati in giochi, tornei, gite, escursioni, mari e piscine. Anche quest'anno, come in ogni edizione, ci si è ispirati ad un cartone animato come tema guida, in cui i personaggi, riportati sulle coloratissime magliette, sono le mascotte delle varie squadre che si sfidano per vincere l'edizione 2024. Il racconto del Re Leone guida soprattutto le riflessioni che aprono i pomeriggi di estate ragazzi, i valori umani espressi in questa storia, che si aiuta i ragazzi a leggere anche da un punto di vista cristiano, se compresi, permetteranno di crescere in armonia con se stessi e con gli altri. Non aver paura di affrontare la vita, essere se stessi, non scoraggiarsi dopo un errore, l'importanza del perdono che conduce alla riconciliazione, l'importanza dell'amicizia, il valore della diversità. Grazie alla disponibilità di molti animatori della fascia delle superiori che rinunciano al loro tempo libero per guidare nei giochi i ragazzi e alla generosa partecipazione di tanti adulti. Questa esperienza diviene anche un intenso momento di vita comunitaria ed ecclesiale a servizio delle nuove generazioni. Come ogni anno ormai da tradizione è iniziata l'estate ragazzi un momento di grande aggregazione per tutti i giovani del quartiere, e non solo della città. Quest'anno gli iscritti dalla terza elementare alla terza media sono quasi 600, più tanti animatori giovani che collaborano, animano e aiutano per portare avanti questa esperienza. Per noi è importante questa attività estiva in quanto permette ai ragazzi e ai giovani di essere presenti qui all'interno dell'oratorio, di vivere un periodo, quello estivo, che di solito è caratterizzato dalle poche cose da fare in maniera attiva, grazie ai momenti di formazione, grazie alla possibilità di incontrarsi con gli altri, e quindi crescere, come voleva Don Bosco, nell'amicizia tra di loro e nell'amicizia con il Signore Gesù. Oltre a questo, oltre all'esperienza dell'estate ragazzi, quest'anno abbiamo intrapreso l'esperienza dell'estate baby, anche la prima e la seconda elementare saranno coinvolti e come anche questo da tradizione, lunedì inizierà l'estate giovani per i ragazzi dal primo superiore in su, che sono quelli che ci aiutano e collaborano, ma anche altri. Ecco, è davvero importante per le famiglie, ma soprattutto per l'oratorio e per noi questa esperienza, perché può essere un veicolo, può essere un momento di aggregazione, di vicinanza a questa nostra istituzione che ormai da tanti anni porta avanti il suo valore educativo e la pedagogia di Don Bosco.